Allora chiedo a Carlo Verdone che cosa succede l'11 novembre? L'11 novembre c'è un referendum importante del quale molti romani non sanno assolutamente niente, invece è importante che vadano a votare, possono votare sì e possono votare no, ognuno la pensa come è giusto che la voglia pensare. È un referendum sull'Atac e la cosa mi sembra abbastanza seria, perché ultimamente l'Atac ha avuto e ci ha dato, ha dato soprattutto a tanti cittadini che usufruiscono dei mezzi, tante difficoltà, è un'azienda che ha dei grossi problemi, quindi è arrivato il momento che la pubblica amministrazione non deve privatizzare, ma deve dare delle concessioni affinché si possa fare una gara. La città deve essere come divisa in lotti, ogni lotto deve essere gestito in qualche modo da una concessionaria. La pubblica amministrazione controllerà che tutto vada nel migliore dei modi e secondo me la cosa più importante è che ne guadagneranno i cittadini in qualità, in efficienza, in sicurezza dei mezzi, quindi secondo me è un referendum importante, proprio per rendere poi questa città alla pari di altre città di livello europeo, perché noi siamo molto molto indietro, quante immagini di autobus incendiati abbiamo visto, rotti, in mezzo alla strada, trainati, no, non si può più andare avanti così, francamente, quindi mi sembra un referendum importante e invito tutti ad andarci, poi ognuno voterà quello che si sente di votare. Cosa importante è che chi lavora nell'Atac dovrà chiaramente essere riassunto attraverso nuove forme che si stabiliranno attraverso queste ipotetiche concessioni, insomma non dovranno restare disoccupati, questo è importante. E questo è un minuto, ecco, me l'ho dimenticato, questo è un minuto.